Signore e signori, buonasera. Durante la sua tournée in Italia, Count Basie ha registrato appositamente per Rai questo concerto. Di Count Basie vi leggiamo ora alcune brevi ed essenziali note introduttive. Nel 1935 negli Stati Uniti nasce una nuova forma di jazz, lo swing, che vuol significare un certo modo di suonare con energia e insieme con abbandono. Indimenticabile gli interpreti dello swing, oltre a Duke Ellington, furono Keb Calloway, Fletcher Anderson e Benny Monter. Benny Monter, che era capo della Cancer City Band, morì proprio nel 1935 e lasciò in eredità a un pianista negro del New Jersey il suo stile personale e la sua orchestra. Questo pianista si chiamava Count Basie. Da allora la sua fama non ha mai avuto tramonti. Dopo 25 anni di attività internazionale, Count Basie non ha bisogno di presentazioni. A 54 anni e le sue evoluzioni di pianista guida hanno sempre reso più che trascinante lo swing della sua orchestra, sollevando autentico entusiasmo con il riff, cioè una ripetizione della breve frase che fa da contrapunto. La sua, pur essendo un'orchestra moderna della quale fanno parte i giovani musicisti quali Ferd Jones, Joe Newman, Frank West, Frank Foster, Benny Powell, Sonny Payne, Billy Mitchell, resiste alle seduzioni delle varie mode e si mantiene fedele alla più pura tradizione del jazz. William Basie, come tutti i grandi jazzmen, da King Oliver a Duke Ellington, è conosciuto con il soprannome di Count, cioè il conte, e a questa alta aristocrazia della musica del jazz egli veramente appartiene. Di Count Basie ora avrete un'esecuzione e questo programma lo annuncia egli stesso, in quanto è solito improvvisare sempre man mano che il concerto si esegui. Grazie a tutti. 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 George Williams, Young and Beautiful. I love you. Grazie a tutti. 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 a tutti.